Il piccolo patriota padovano. Racconto mensile. 29. Sabato. Non sarò un soldato codardo, no, ma ci andrei molto più volentieri alla scuola, se il maestro ci facesse ogni giorno un racconto come quello di questa mattina. Ogni mese, disse, ce ne farà uno o ce lo darà scritto, e sarà sempre il racconto di un atto bello e vero, compiuto da un ragazzo. Il piccolo patriota padovano si intitola questo. Ecco il fatto. Un piroscafo francese partì da Barcellona, città della Spagna, per Genova, e c'erano a bordo francesi, italiani, spagnoli, svizzeri. C'era fra gli altri un ragazzo di undici anni, mal vestito, solo, che se ne stava sempre in disparte come un animale selvatico, guardando tutti con l'occhio torvo, ed aveva ben ragione di guardare tutti con l'occhio torvo. Due anni prima, suo padre e sua madre, contadini dei dintorni di Padova, l'avevano venduto al capo di una compagnia di saltimbanchi, il quale dopo avergli insegnato a fare i giochi, a furia di pugni, di calci e di digiuni, se l'era portato attraverso alla Francia e alla Spagna, picchiandolo sempre e non sfamandolo mai. Arrivato a Barcellona non potendo più reggere alle percosse e alla fame, ridotto in uno stato da far pietà, era fuggito dal suo aguzzino e corso a chiedere protezione al console d'Italia, il quale, impietosito, l'aveva imbarcato su quel piroscafo, dandogli una lettera per il questore di Genova, che doveva rimandarlo ai suoi parenti, ai parenti che l'avevano venduto come una bestia. Il povero ragazzo era lacero e malaticcio, gli aveva andato una cabina nella seconda classe, tutti lo guardavano, qualcuno lo interrogava ma egli non rispondeva e pareva che odiasse e disprezzasse tutti, tanto l'avevano inasprito e intristito le privazioni e le busse. Tre viaggiatori, non di meno, a forza di insistere con le domande, riuscirono a fargli snodare la lingua e in poche parole rozze, miste di veneto, di spagnolo e di francese, egli raccontò la sua storia. Non erano italiani quei tre viaggiatori, ma capirono, e un poco per compassione, un poco perché citati dal vino, gli diedero dei soldi, celiando e stuzzicandolo, perché raccontasse altre cose, ed essendo entrate nella sala in quel momento alcune signore, tutti e tre per farsi vedere gli diedero ancora del denaro, di gridando, piglia questo, piglia quest'altro, e facendo sonare le monete sulla tavola. Il ragazzo intascò ogni cosa, ringraziando a mezza voce col suo fare burbero, ma con uno sguardo per la prima volta sorridente e affettuoso. Poi si arrampicò nella sua cabina, tirò la tenda e stette quieto, pensando ai fatti suoi. Con quei denari poteva assaggiare qualche buon boccone a bordo, dopo due anni che stentava il pane. Poteva comprarsi una giacchetta appena sbarcato a Genova, dopo due anni che andava vestito di cenci, e poteva anche, portandoli a casa, farsi accogliere da suo padre e da sua madre un po' più umanamente, che non l'avrebbero accolto se fosse arrivato con le tasche vuote. Erano una piccola fortuna per lui quei denari, e a questo egli pensava racconsolato dietro la tenda della sua cabina, mentre i tre viaggiatori discorrevano seduti alla tavola da pranzo in mezzo alla sala della seconda classe. Bevevano e discorrevano dei loro viaggi e dei paesi che avevano veduti, e di discorso in discorso vennero a ragionare dell'Italia. Cominciò uno a lagnarsi degli alberghi, un altro delle strade ferrate, e poi tutti insieme, infervorandosi, presero a dir male d'ogni cosa. Uno avrebbe preferito di viaggiare in Lapponia, un altro diceva di non aver trovato in Italia che truffatori e briganti, il terzo che gli impiegati italiani non sanno leggere. Un popolo ignorante, ripetè il primo, sudicio, aggiunse il secondo. «Là!» esclamò il terzo e volea dir ladro, ma non poté finire la parola. Una tempesta di soldi e di mezze lire si rovesciò sulle loro teste e sulle loro spalle, e saltellò sul tavolo o sull'impiantito con un fracasso d'inferno. Tutti e tre salzarono furiosi, guardando all'insù, e ricevettero ancora una manata di soldi sulla faccia. «Ripigliatevi i vostri soldi!» disse con disprezzo il ragazzo affacciato fuor della tenda della cabina. «Io non accetto l'elemosina da chi insulta il mio paese!»